In Abruzzo il 2021 è stato caratterizzato da una ripresa dell'attività economica seguita alla fase recessiva e innescata dalla pandemia. I dati sono stati diffusi dalla Banca d'Italia nel suo rapporto annuale sull'economia abruzzese dal nuovo direttore della filiale dell'Aquila Giovanni Giuseppe Ortolani. Il prodotto interno lordo regionale secondo le previsioni è cresciuto del 6,3%. Nel corso del 2021 nell'industria sono stati completamente recuperati i livelli pre-pandemia, cresciute le vendite soprattutto per le aziende con una maggiore presenza nei mercati esteri. Le esportazioni sono cresciute del 5% e con parti della gomma e della plastica, metal meccanico e della chimica hanno contribuito all'incremento dell'export. L'esposizione delle imprese abruzzesi in termini di esportazioni dirette verso le aree di guerra risulta tutto sommato contenuta. Il settore delle costruzioni è andato meglio del periodo pre-pandemia. Commercio e turismo hanno risentito dell'andamento altalenante della pandemia invece. Il tasso di natalità delle imprese è aumentato al 2,8%. La redditività delle imprese è tornata a crescere come ha migliorato il quadro occupazionale con il numero di occupati aumentato più 1,9%. Anche il reddito delle famiglie è tornato a crescere nel 2021 con un più 1,9% eppure i consumi sono risultati in ripresa come prestiti alle famiglie. La crescita dei prestiti bancari si è attenuata ed è migliorata la qualità del credito. Anche la spesa in conto capitale delle amministrazioni locali è tornata a crescere anche grazie al PNRR. Nel 2021 la crescita dell'economia abruzzese è stata molto netta come nelle altre regioni italiane quindi abbiamo superato con slancio la crisi pandemica che aveva comportato anche dei blocchi sostanziali dell'attività produttiva. Il prodotto in regione secondo i nostri dati è cresciuto del 6,3% quindi appena al di sotto della crescita media dell'intero territorio. Sono andate particolarmente bene le costruzioni grazie agli incentivi fiscali. L'industria in senso stretto ha recuperato sostanzialmente i livelli precedenti alla crisi pandemica. Le crescenti difficoltà nell'approvvigionamento di alcuni input produttivi importati e rincari dei beni energetici acuitisi nei primi mesi del 2022 con lo scoppio del conflitto in Ucraina potrebbero però compromettere la fase di recupero perché già a fine 2021 inizio 2022 gli effetti si sono visti come conferma il direttore. Però purtroppo già nella seconda parte finale del 2021 si sono cominciate a vedere delle nuvole all'orizzonte con problemi di approvvigionamento delle materie prime, tendenziale rialzo dei prezzi delle materie prime, spinte inflazionistiche conseguenti che si sono fortemente accentuate con il conflitto russo-ucraino.